Ciao a tutti, oggi solo un'idea, non faccio ricette particolari, adesso mi è suonata la suoneria. Oggi faccio solamente delle tagliatelle all'uovo e ho fatto i funghi porcini, avevo dei funghi secchi i porcini, li ho messi un po' a bagno nell'acqua in modo che si sono un pochettino ammorbiditi e adesso li faccio con due spicchi di aglio, prezzemolo, poi aggiungo un pochettino di panna e una spolverata di parmigiano reggiano alla fine. Buon appetito a tutti, ciao ciao!